Le tasse e il debito diminuiscono, la lotta all'evasione produce ottimi risultati e la spesa sanitaria delle marche è perfettamente sotto controllo. Nonostante la gravità della crisi internazionale e nazionale, nel 2009 la gestione finanziaria della regione ha registrato risultati senz'altro positivi, grazie al mantenimento del pieno equilibrio tra andamento delle entrate e trend di spesa. Fortunatamente i nostri sforzi sono stati coronati dal successo di aver tenuto sotto controllo alcuni meccanismi di spesa particolarmente onerosi per la regione. Ciò è dovuto essenzialmente a due fatti, da un lato sono diminuiti gli interessi sul debito che si è ridotto consistentemente sia in valori assoluti che in termini percentuali sul bilancio regionale, dall'altro è aumentato lo sforzo del contrasto all'evasione e arriviamo a un recupero di oltre 30 milioni nel 2009. Questi due elementi congiunti ci hanno consentito addirittura nel 2009 di allargare la spesa nel contrasto alla crisi e nel sostegno allo sviluppo economico.